Gossip Gossip, due ex geffini sono stati immortalati molto vicini Geremias Rodriguez e Aida Espica sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale Chi molto vicini addirittura da definirli dal giornale di Cronica Rosa. Abbracci che suggeriscono intimità. Per chi se lo fesse dimenticato i due ragazzi avevano iniziato una conoscenza quando erano due concorrenti del grande fratello VIP nell'edizione andata in onda quest'anno. Ma in quel momento entrambi erano impegnati rispettivamente con Sara e Giuseppe Lama. La modella venezuelana non era assolutamente disposta a lasciare il suo fidanzato storico. Mentre il piccolo di casa Rodriguez viveva una situazione particolare con la sua compagna e dopo averle dato una nuova possibilità, sembra aver troncato definitivamente la sua liaison. . Alcune voci maligne però hanno mormorato che tra i due concorrenti del reality di Canale 5 all'interno del confessionale si fossero scambiati un bacio, ma prontamente smentito da entrambi. . Una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia, Geremia Assi in più programmi aveva ribadito il suo interesse verso la espica, ma finora sembra non essere accaduto nulla particolare. . Addirittura ospite della rubrica Casa Signorini, il fratello di Belen aveva aperto pubblicamente ad una frequentazione con la modella in quanto pare fosse tornato single. . Dunque non ci meravigliamo se finalmente a distanza di mesi due ex bierfini stiano intraprendendo una particolare conoscenza visto che entrambi. . Sono liberi sentimentalmente e dentro la casa avevano già dimostrato di essere molto affiatati. Rodriguez esplica, l'inizio di un nuovo amore. . . Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo la formazione della coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. . Sembra che si stia formando una nuova storia d'amore che vede coinvolto un altro membro di casa Rodriguez ovvero Geremia Assi e Aida Jespica. . . . . . . . . .